ciao a tutti e ben ritrovati sul mio canale sono tornata con un tutorial il primo tutorial in collaborazione con il sito doi tu e ho deciso di realizzare questo piccolo ciondolo che ho chiamato elisir è molto semplice volevo sinceramente fare una cosa semplice perché le cose molto elaborate non piacciono a tutti e invece queste più semplici si possono indossare comunque sono molto più preferite tra tra i bijoux diciamo questa sfera questo ciondolo se possiamo chiamarlo così è molto veloce da realizzare e anche molto semplice secondo me se ci sono le perline se avete le perline o se volete acquistarle è adatto anche alle principianti come lavorazione niente vi mostro i materiali e poi passiamo al tutorial allora come materiale ci servirà una perla che ho utilizzato questa che crystal rose gold a 10 mm che ci servirà per inserirlo al centro poi ci serviranno le perle barocche che io uso queste qui svarosky crystal barocco in perl crystal rosaline perl da 10 mm sono queste perline con una forma molto particolare sempre svarosky poi ci serviranno i bicono sempre svarosky che questi qui sono una meraviglia davvero davvero molto molto belli e molto luminosi e sono svarosky e all'opal shimmer sono da 3 mm quindi bicono da 3 mm poi ovviamente è questo stavo e decidere ma io comunque dimostro quello che utilizzo io questo ciondolo l'ho montato sulla catena che ho scelto per questa collaborazione quindi sto utilizzando la catena argento 9 25 placato oro rombo piatta brillante che la misura e 3 per 2,5 mm quindi molto fine molto elegante la lunghezza di 50 cm comunque io poi vi lascerò tutti i link giù nell'info box e inoltre ci servirà una di queste chiusure che avevo scelto che sono chiusura nello molla argento 9 25 placato oro e sono da 8 mm eccola qui poi ci serviranno le perline che si le per le rocaille scusate io uso le miuki 11 0 solo queste ci serviranno e poi inoltre ci servirà anche che adesso non mi viene in mente un gancetto per agganciare il nostro ciondolino che non mi viene in mente adesso come si chiama esattamente poi come filo io sto usando un filo che non mi ricordo il nome ma comunque va benissimo anche il miuki e come ago un ago pony il numero 10 niente in quanto riguarda questo ciondolino vi avevo penso che ve l'ho già detto all'inizio penso se no ve lo dico adesso non mi ricordo comunque e se avete a casa una bolla quella che fa il suonaglino potete inserirlo al posto della perla qui al centro e fa quel bel suono quando si si muove secondo me è molto molto carina come idea e niente la lavorazione semplice vi dicevo molto veloce anche da realizzare e secondo me se si ha a casa delle perline se non avete le per le barocche queste qui che sono leggermente piatte come leggermente anzi sono piatte per realizzare questo questo ciondolino secondo me vanno bene anche le perle d'acqua dolce basta che hanno più o meno questa misura da 10 mm diciamo la lunghezza e potete comunque provare niente sistema tutto e partiamo con il tutorial vi ricordo inoltre mi sono dimenticata che vi lascerò giù nell'info box anche il codice sconto che potete usufruire quante volte volete fino a fine marzo fino al 31 marzo è un codice sconto di 35% e il bello è che lo potete utilizzare anche sugli articoli già scontati già in offerta e lo potete utilizzare più volte se volete fare più ordini potete utilizzarlo quante volte volete quindi secondo me è un'idea fantastica questo codice mi raccomando ve lo lascio giù nell'info box ed eccoci qui allora per iniziare dobbiamo inserire sul filo 4 bicono alternati a 4 rocaille che adesso vi mostro ecco qui poi chiudiamo tutto a cerchio ecco qui se ci riesco a volte sembra che è la prima volta che facessi il video che facessi un video ecco mi è molto difficile ci sono dei momenti che sono proprio imbranata e non mi viene niente ecco qua poi tagliamo il filo in eccesso e adesso attraversiamo un po di perline per allontanarci dal nostro nodo ecco qui ecco qui scusate è volato via ecco qua allora adesso mi sto portando ad uscire da una rocaille ecco qui e prendiamo una perla barocca un bicono una perla barocca 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 barocche non saprei esattamente vedete hanno questa forma un po schiacciata un po particolare e quindi li portiamo a fine del filo e adesso prendiamo una rocaille un bicono una rocaille un bicono ancora una e una quindi per un totale di 4 ecco qua sì ci siamo quindi dobbiamo prendere la stessa sequenza che abbiamo preso all'inizio cioè 4 bicono alternati a 4 rocaille portiamo tutto alla fine ecco e adesso si presenta in questo modo vedete io adesso tengo il filo e mi inserisco in queste perline nelle rocaille e nei bicono dal lato opposto vedete ecco e tiro bene il filo anche qui per per chiudere a cerchio ecco ecco qua adesso ci inseriamo nella rocaille questa qui tiriamo sempre bene il filo lo teniamo in tensione perché se no poi si vede e adesso dobbiamo scendere nelle perle aiuto ecco qua ecco siamo usciti da qui adesso guardiamo se noi da questa rocaille siamo usciti da questa da questo lato adesso ci inseriamo uscendo da questa perla ci inseriamo dal lato opposto nella stessa rocaille per centrare bene le perline diciamo ecco in questo modo adesso attraversiamo un bicono e una rocaille ecco qui e facciamo la stessa cosa non proprio la stessa uguale adesso vi mostro quindi prendiamo una perla barocca una un bicono e un'altra perla ecco qui ma questa volta non faremo più questa cosa questo modulino con i quattro bicono e quattro rocaille adesso vi mostro quindi li portiamo alla fine e qui abbiamo questa sequenza l'abbiamo aiuto questa sequenza di perle l'abbiamo inserita in questo rocaille adesso ci inseriamo in quest'altra rocaille nella rocaille successiva dal lato opposto vedete di questo modulino dal lato opposto e ci inseriamo in questa rocaille qui e tiriamo bene il filo ecco in questo modo adesso scendiamo di nuovo giù quindi uscendo da questa rocaille vi faccio vedere vedete sono entrata da qui nel bicono no scusate ho sbagliato quindi solo nella rocaille vedete e adesso tiro bene il filo lo tengo con le mani e scendo giù di nuovo in queste perle tirate sempre bene il filo perché se no poi si vede e adesso facciamo la stessa cosa quindi guardiamo qui siamo usciti da questa rocaille vedete siamo usciti da questo lato adesso ci inseriamo da quest'altro ecco qua e tiriamo bene il filo scusate qualcosa è andato storto ecco qui ecco qua in questo modo vedete e adesso dobbiamo fare questo passaggio per altre due volte quindi qui adesso attraversiamo il bicono e la prima rocaille quindi il bicono e questa rocaille scusate sono fuori inquadratura ecco vedete e adesso da questa rocaille prendiamo di nuovo una perla un bicono una perla e ci inseriamo in questa rocaille qui dopo risaliamo di nuovo nelle perline e ci inseriamo in questa rocaille quando saliamo sopra ma dal lato opposto da dove siamo usciti e poi facciamo anche qui l'ultimo giro l'ultimo passaggio e ci vediamo dopo eccoci qui arrivate alla fine vedete ho inserito tutte le perline adesso sto uscendo qui da una rocaille prendiamo un bicono ecco e ci inseriamo uscendo da questa rocaille qui mette a fuoco da questa rocaille qui subito davanti ci inseriamo in questa rocaille vedete subito davanti e tiriamo bene il filo sistemiamo il bicono al centro ecco qui adesso scusate ma non sta ben centrato ecco qui in questo modo adesso uscendo sempre da qui attraversiamo il bicono ecco e qui dall'altra parte ci inseriamo nella stessa rocaille ma visto che siamo usciti da qui ci inseriamo dal lato opposto ecco qua adesso attraversiamo una perla un bicono e una perla per arrivare da questo lato per inserire anche qui il bicono come abbiamo fatto qui quindi attraversiamo queste perle ecco qua e adesso ci inseriamo in una rocaille qualsiasi quella che ci viene prima ecco e adesso facciamo la stessa cosa prendiamo un bicono e ci inseriamo dal lato opposto vedete nella rocaille subito davanti tiriamo bene il filo ecco qui adesso attraversiamo di nuovo il bicono ops io giro il lavoro per comodità e per sistemarlo bene e qui di nuovo ci inseriamo in questa rocaille qui ecco qua tiriamo bene il filo adesso già che siamo qui facciamo anche il nostro capietto quindi uscendo da una rocaille vedete prendiamo 6 rocaille e 6 ecco qui e ci inseriamo nella rocaille sul lato opposto vedete come abbiamo fatto con il bicono adesso ripassiamo un paio di volte in questo capietto per rinforzarlo ecco qui anche qui se all'inizio sono uscita sono entrata da questo lato sulla perlina adesso sto entrando dall'alto opposto ecco qua e comunque penso che va meglio se inserite 8 rocaille invece di 6 perché 6 mi sembrano un po' poche per agganciarlo vedete c'è poco spazio però vabbè bene adesso invece ci dobbiamo spostare sul bicono centrale ecco qui vedete questo che abbiamo inserito adesso inseriamo l'ago vedete tra le perline ecco qui per uscire qui al centro dentro proprio questa lavorazione e adesso prendiamo due bicono la nostra perla da 10 e due bicono aiuto ecco qui e cerchiamo di inserirli all'interno io faccio pressione sui due lati e come vedete si apre ecco qua quindi inserisco qui al centro tutto e adesso vedete mi inserisco tra le perline mette a fuoco vedete qui da sotto verso l'alto ecco in questo modo che poi tiriamo bene il filo ecco qui sistemiamo un po' le perline e qui ci inseriamo nel bicono centrale che abbiamo inserito ecco qua inseriamo di nuovo l'ago in giù qui c'è un po' difficile perché non si vede molto bene all'interno se volete potete utilizzare anche il chiodino io invece volevo fare la lavorazione cucita ecco come vedete ho inserito l'ago qui tra le perline di due bicono perla due bicono e sto uscendo da questo lato qui ecco tra le perline e tiro bene il filo così ho fatto due passaggi nella perla e nel bicono centrale ed ecco qui che il nostro ciondolo è pronto vi volevo dire che se tirate molto molto il filo la perla anzi la lavorazione tende a ad aprirsi come vedete rimane un po' più aperta io invece non tiro bene il filo e la lascio così che viene più allungata vedete in questo modo così rimane più sull'ovale invece che su un quadrato e niente questo è tutto adesso non manca altro che inserire la catena e il nostro ciondolo è pronto fatemi sapere cosa ne pensate e niente ci vediamo al prossimo tutorial vi mando un bacio e alla prossima ciao ciao ciao